Si chiama Peter Marshall, è un uomo di 56 anni d'età, rivela da New York in Connecticut, Stavio d'America. L'uomo soffre di Alzheimer e proprio questa patologia gli ha fatto scordare tantissime cose del suo passato, anche di essere sposato da circa 20 anni con una donna. E pensate che proprio quest'uomo, infatti dimenticato di essere sposato, ha fatto una proposta di matrimonio ad una amata moglie e la coppia ha deciso di sposarsi di nuovo. L'uomo non ricorda le cose, l'uomo ha questo, chiamiamolo, problema di salute che non passa inosservato e che ovviamente ha delle repercussioni su se stesso, sulla sua psiche, sul suo fisico e soprattutto sulle scelte che va a compiere. Ma nonostante ciò la coppia va avanti e nonostante appunto la donna sia rimasta nel primo momento stupita della proposta, ha detto ok, si esposiamo di nuovo. E' una storia questa piacevole, che ha delle incredibili e che è invece protagonista questo uomo, Peter Manshaw, dal Connecticut, precisamente da Hannover, Stati Uniti d'America. Una storia che fa letteralmente commode. Un amore insomma piacevole, un amore straordinario, un amore che va avanti nonostante l'Alzheimer che purtroppo continua a essere un meno e proprio male. Il video termina qua, complimenti a Peter Manshaw. Iscrivetevi al canale, commentate, fatemi sapere cosa pensate. Un saluto e ricordo al prossimo video.